Musica Ben trovati con le breaking del pomeriggio, nuovo incidente sul lavoro questa mattina nella nostra provincia è successo alle 8.80 sul cantiere del secondo ponte sul fiume Tevere a Sansepolcro un operaio ha fatto un volo di 5 metri, è stato ricoverato in gravi condizioni a Careggi trasferito con l'elicottero Pegaso l'auditorium del centro affari d'ora in poi avrà un nome che si chiamerà Auditorium Guido Monaco la cerimonia di intitolazione avvenuta prima del concerto di Zubin Meta una idea fortemente voluta dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e Stanley Govescio per il direttore di orchestra direttore del coro del Maggio Fiorentino che ha diretto magistralmente la creazione uno dei capolavori discussi di Hayden in prima fila anche il presidente della regione toscana Eugenio Gianni Grazie a tutti